È l'ipersensibilità di alcune persone alla base delle proteste contro la rete wifi nel centro di San Giovanni, con l'attesa della risposta da parte dell'amministrazione comunale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è uscita già qualche anno fa con uno studio nel quale ci dice che circa un 3% della popolazione di buoni, di un bel numero di paesi occidentali, è elettroipersensitiva, dicono. Cioè, esposta, per esempio, a questo wifi, si stima il 3% di noi manifesta subito dei disagi, che possono essere eruzioni cutanei, che può essere tachicardia, che può essere... l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla anche di depressione. Quindi per il momento resta valida la richiesta dello spegnimento della rete stessa. Chiediamo quindi, come cittadini, come genitori, di che il Comune riduca l'esposizione ai campi elettromagnetici, sensibilizzi la popolazione e ci informi sui rischi che si possono correre, che corriamo soprattutto a lungo termine. Come lavoro nel campo della sanità e vedo la devastazione di quello che possano essere o non essere i tumori celebrali, possano essere sia derivati da questo o da altro. Comunque la devastazione è tanta.